pastorino quanto vale questa vittoria per l'albenga assolutamente doppio ci siamo fatti un mazzo quanto una casa abbiamo sofferto tanto però alla fine il risultato secondo me è giusto abbiamo vinto 2 a 1 giusto potevamo anche fare qualcosina di più avete dimostrato di volere fortemente il risultato in settimana c'è stato il cambio di allenatore è cambiato qualcosa anche nel vostro atteggiamento ma diciamo che quando si cambia un allenatore solitamente si cerca sempre di dare quel qualcosa in più soprattutto perché comunque probabilmente quello che davamo prima non era abbastanza e quindi abbiamo dato abbiamo dato di più a livello sia di atteggiamento sia di corsa tutti puntuali sempre mentre che quello che nelle ultime settimane forse mancava un po però continuiamo così adesso grande attenzione da parte vostra in difesa un'unica sbavatura pagata caro ma per il resto una partita perfetta sì secondo me loro hanno creato veramente poco davanti anche se hanno un attacco forte quindi ci siamo ci siamo difesi con ordine siamo difesi bene e io faccio un complimento a tutti i miei compagni di reparto